Allora, Alex Bocelli, secondo Laura, qual è il partito La Forza oggi in Italia più laica nel mondo, politico, ammesso che esista sia parlamentare che estraparlamentare e al Parlamento europeo? Non esistono, laiche, laiche, laiche non esistono, per il semplice fatto che il potere non religioso, quindi il potere dei parlamenti, dei governi, avrà sempre bisogno, almeno finora, avrà sempre bisogno di avere un appoggio da parte dell'autorità religiosa. Uno degli esempi è rappresentato ai patti lateranesi, ma lo stesso Napoleone, che è stato uno dei primi a sottoscrire, che era laico al 200%, salito al potere, ha avuto bisogno di fare un concordato con le autorità religiose, perché ci sono i voti di quella parte lì, i patti lateranesi lo stesso, la revisione dell'84, i patti lateranesi lo stesso, è tutto. Una sporca questione di politica. La politica non è pulita, dal mio punto di vista. Può essere un po' più, un po' meno, ma quindi una forza politica laica farebbe poca strada. Allora, allora. Allora. Allora.